buongiorno ragazzi siamo qui nel video di rischio al busto con mio padre faremo solo un pacchetto perché me ne ha concesso solo uno e quindi passiamo cosa fai e vabbè comunque assaggiamone uno alla volta questo dovrebbe essere fogna putrida o ribes blu di gusto ti riesco a vedere poi fogna putrida o ribes blu se prendi la cattiva 5 punti si è beccato l'olio mangia auguri un punto aperto no buona ora queste non siamo stati pagati per pubblicare l'arrile rischio anche qua vabbè ci ho scultato quando non è del nonno for life queste probabilmente saranno tutte due cattive ma auguri non riesco a capire se la mia fa schifo buona infatti anch'io e questo è inquietante mi sembra normale ma questa è la mia vecchia nel dubbio ah mi ancora l'altro in bocca non mi sembrava cattiva ma questo è un gusto diverso vabbè avrà meno zucchero vabbè vabbè due a due sì però ora siamo a quel sacchettino delle tuffette vabbè è buono e tirà qua e dai buccato questo a caso no comunque ora passiamo a fuzzetta selvaggia o o liquidizia vai scusate scusate c'è stato un problema tecnico non avevamo più memoria ne ero probabilmente stringi che non ne abbiamo ancora le clip allora c'è stato un altro cavolo di problema tecnico quindi sì dobbiamo praticamente essere rimasti a questa assaggiamola ci come il gelatino di fragola mmm era buona saponosa ah sapona quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto in collaborazione con mio padre al prossimo video